ciao frate e ciao sorella non so se mi sentite che sto con la mascherina qui sto chiacchierando c'è la gente a una ventina di metri però io rimango con la mascherina qui c'ho il caffè lo zucchero me lo bevo dopo di questa buona colazione poi c'ho le sigarette dopo una sigaretta solito outfit giacchettino pulitissimo camicia pulitissima e magliettina che mi fa schifo però è pulitissima vi faccio vedere come bevo il caffè perché dopo dovevo la mascherina e tutto quanto per cui vi auguro una buona giornata oggi qui è da paura c'è il sole stupendo faccio una buona giornata a tutti saluto a tutti i miei followers che io sono followers loro e loro sono followers miei ciao frate ciao sorella un abbraccio